buongiorno a tutti io sono Henry un italiano a New York mi sono trasferito in questo bellissimo continente per lavoro e adesso sto andando a lavorare davanti a me vedo solamente delle lunghissime distesi di centinaia e centinaia di come dire in italiano asfalti e macchine che io corre verso questa giornata di lavoro io vivo qua perché io diciamo che inseguo il sogno americano io vivo guadagno molti soldi in un belle ville altro che voi schifosi italiani che vi state a grattare le balls in your fucking country no perché è un posto di merda l'Italia e adesso io sto andando a lavorare in queste bellissime strade tutte molto molto pulite tutte che sono fatte molto bene e non ci sono mai delle bocche e non ci sono neanche i lavori in corsi quindi è tutto bellissimo io chiedo scusa se io non parlo bene italiano ma io sono trasferito in questo bellissimo paese ormai da molti moltissimi anni io ho partito per l'america il 27 aprile 2017 sono passati veramente molti moltissimi time e adesso io come voi sapete quando tu vivi in un paese foreign come voi dite in italiano straniero no tu ti dimenti che la tua lingua di origine quindi tu non riesci più a parlare tu ti perdi tuo classico accento del paese italiano e quindi è tutto adesso molto complicato per me di parlare in questa lingua che ho parlato per solamente 32 anni quindi adesso io vivo in questo mondo bellissimo dove io non ho problemi economici dove io non pago a tasse dove io guadagno molti soldi dove io guido bene la macchina dove io avere un lavoro che mi rende felice perché perché qui in america tutto è bello tutto è pulito tutto è molto molto rispettoso delle regole qui la polizia fa il suo lavoro qui non abbiamo immigrati e come dite in italia negri immigrati con le barche perché qui le barche noi ce le ce le compriamo quindi adesso questo è il mio vlog of a fucking america and a fucking italian and a new fucking america quindi volevo darvi il benvenuto in questo mio canale e mi tolgo di class e vi saluto un caro abbraccio del vostro amy from america ciao per tutto scusatemi perché mi sono fatto vedere dimenticare quanto va america mi è venuto il mento americano questo mento americano viene solo chi vive in america no chiaro ok cheers